Orizzonti interrotti, una nuova vita oltre la disabilità. È l'iniziativa promossa dalla associazione Il Pungolo di Gela, prevista per domenica 20 settembre prossimo nel parco di Montelungo. L'appuntamento è fissato per le 8. L'obiettivo è quello di stare tutti insieme in allegria, socializzando in uno dei polmoni verdi della nostra città. Questa manifestazione da quattro anni innanzitutto che lo facciamo. Il quattro anno consecutivo che facciamo questo Pungolo è si tratterà di una giornata di socializzazione tra persone diversamente abili e non mortati in un barco bellissimo di gela dove ci saranno fatte alcune manifestazioni come quella di Alta Scuola di Cavalli con altre manifestazioni sportive, esibizioni sportive, non gare, attenzione, esibizioni sportive di diversamente abili. Tutta la giornata, assieme a tante altre associazioni amiche alla associazione del Pungolo, stiamo svolgendo questa giornata. Anche per stare, come sottolinevamo, vicini e dunque socializzare più che altro. Sì, il nostro punto di vista è questo, proprio il nostro punto è socializzazione tra persone diversamente abili e non. in un contesto che è il Montelungo, che è un barellismo terrestre, tutto qua. Poco valorizzato però? Poco valorizzato sicuramente, si dovrebbe valorizzare molto di più. Nel corso della giornata di domenica sono previsti numerosi appuntamenti, torneo di scacchi, esibizioni sportive, danza ed altro ancora. Non è forse vero che questo potrebbe diventare un centro gravitazionale per la disabilità o per le performance che si potrebbero ottenere in un territorio sul tema della disabilità, perché spesso si pensa a queste cose o alla disabilità come un laboratorio, come un posto chiuso e comunque un posto che in qualche modo deve rappresentare dove qualcuno ti cura. In realtà noi stiamo rovesciando le logiche, siamo nell'aspetto della qualità dell'inclusione sociale e noi proponiamo alla città non soltanto di esserci, ma di aiutare la città a crescere anche verso i polmoni verdi, anzi attrezzandoci a curare i polmoni verdi.